Eccellenza, si affronta il tema degli incidenti stradali. Purtroppo la cronaca ci consegna delle pagine non belle nel nostro territorio. L'appello delle istituzioni è sempre all'attenzione massima, però forse bisogna anche mettere in campo una serie di provvedimenti perché questa sicurezza sia davvero garantita a tutti e ci sia per tutti. Gli episodi che si sono verificati sia in Italia ultimamente a ridosso di Natale e di fine anno, ma anche quelli che più da vicino ci riguardano. Noi abbiamo contato nel corso del 2019 21 vittime nella provincia di Messina, quindi è un dato preoccupante e questo ci impone di fare sistema. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie per contrastare efficacemente la perdita di vite umane, spesso legate a comportamenti di soggetti in stato di ebrezza alcolica o di sostanze stupefacenti. Accanto a questo bisogna evidentemente che ci sia l'impegno di tutti perché bisogna che le strade siano adeguate, bisogna eliminare situazioni di pericolo, anche quelle forme minime di illuminazione che sono indispensabili per garantire una maggiore sicurezza. E poi occorre questa attività che non può mai essere abbandonata, deve essere straordinaria di educazione, di formazione delle giovani generazioni, perché bisogna abituarla al rispetto e all'educazione delle regole del codice della strada. È indispensabile perché noi dobbiamo mettere tutto in campo per salvaguardare le vite umane e quindi su questo non possiamo che essere rigorosi nell'applicazione delle sanzioni e delle violazioni. Noi non ci stanchiamo di andare nelle scuole, lo facciamo anche con l'Associazione Vittime delle Strade. Siamo stati nella scuola che ha avuto una sua vittima perché bisogna che i ragazzi si rendano conto di che cosa vuol dire poi alla fine perdere la vita umana. Quindi su questo non possiamo evidentemente abbassare la guardia. Il livello di guardia va mantenuto alto e anche l'aiuto della stampa da questo punto di vista è importante perché bisogna stigmatizzare i comportamenti che sono negativi, di violazione, soprattutto di uso che diventa sempre più frequente purtroppo di sostanze alcoliche, sostanze stupefacenti.